Raccontare la storia di Marianna Manduca per evitare che si ripetano altre simili tragedie e per continuare a coltivare la cultura del rispetto, un obiettivo che ormai da anni sta portando avanti Carmelo Calì, il cugino della donna 32enne, che nel 2007 fu uccisa dal marito in Sicilia dopo 12 denunce sporte, una storia che è stata raccontata a Salerno in occasione del convegno Amori Molesti. Non ci siano più altre Marianne che hanno fatto una vita come la sua, 12 denunce senza mai avere nessun esito. Quindi Marianna alla fine è diventata un'icona grazie a film, ma soprattutto grazie a quello che abbiamo fatto in giro per l'Italia portando e denunciando quello che è stata la mancanza dello Stato nei suoi confronti. Calì, che dopo la morte della cugina ne ha adottato i suoi tre figli, ha rimarcato anche l'importanza di lavorare sulla formazione di chi è deputato a gestire questi casi. Manca la formazione di tante persone che fanno questo lavoro, che lavorano con le vittime, quelle vere, diciamo, quelle che denunciano e non sono preparate ad accogliere la richiesta di queste ragazze e quindi rimangono sole. O almeno fino al 2007 era così. L'iniziativa organizzata dal Lions Club Branch Salerno Minerva ha visto la partecipazione anche del Comune di Salerno e di quello di Cetara. La sensibilizzazione che dovrebbe avvenire non solo da parte delle istituzioni ma anche dalle scuole e quando dico scuole non intendo di primo o secondo grado, intendo proprio dall'infanzia perché i bimbi che sono a scuola saranno i cittadini di domani.